Diciamo che innanzitutto chiaramente è un'esperienza che non auguro assolutamente a nessuno, un'esperienza molto molto forte, drammatica, purtroppo per me era mio padre, per fortuna direi anzi, io già avevo avuto la sfortuna di perdere la mamma che avevo otto anni, quindi sono cresciuto da solo con mio padre, quindi mio padre è stato veramente tutto per me, persona che mi ha sempre seguito, mi ha sempre dato il massimo. La tragedia io purtroppo l'ho presa dopo un'ora e mezzo che era successo, mi hanno chiamato i carabinieri a casa e mi hanno detto che c'era stato un tentativo di scippo, non sapendo assolutamente come erano andate le cose. Abbiamo passato una notte drammatica in cui purtroppo la situazione è precipitata, la mattina con il decesso del papà e sinceramente la prima impressione che comunque sia una tragedia così grossa ti porta lontano mentalmente a pensare a chi comunque sia può aver causato questo. L'ho rivissuta purtroppo la sera prima del funerale quando è venuta la notizia della scarcerazione del primo indiziato, che a oggi posso dire comunque sia, chiaramente non c'entrava niente. Chiaramente per noi è stato un grosso colpo anche perché insomma più o meno c'erano tre testimoni che parlavano più o meno una certa sicurezza del riconoscimento della persona. In una nota diramata attraverso il tuo legale hai parlato di ingiustizia e di senso di sfiducia verso le istituzioni. La svolta è arrivata nei mesi successivi, ora la conferma della custodia in carcere per il secondo nordafricano fermato. Lo rifaresti quel comunicato? Cosa provi tu per le istituzioni? In un momento a ridosso diciamo nella disgrazia del genere io penso che a sangue caldo sia più che normale sicuramente rifare impasso del genere anche se poi a distanza dei mesi obiettivamente aveva ragione insomma aveva ragione il magistrato. Chiaramente questo è venuto fuori tramite un'affermazione diciamo piuttosto forte che in tanti in cui in tanti diciamo non si sono riconosciuti nel senso che magari uno spacciatore di grosso calibro sembrava non potesse fare uno scippo e quindi chiaramente nell'immediatezza della drammaticità dell'evento è chiaro che abbiamo reagito in maniera diciamo piuttosto forte. Fortunatamente poi dopo pochissimi mesi perché poi effettivamente le indagini hanno proseguito e gli elementi ce n'erano veramente pochi sono riusciti invece a trovare la svolta e a trovare il presunto ma sembra quasi certo colpevole. I carabinieri sembra abbiano svolto un buon lavoro, quantomeno non hanno mollato mai la presa? Assolutamente sì, io ho rifatto anche la settimana scorsa un comunicato per ringraziarli quindi non posso che ringraziarli, l'ho già fatto anche personalmente, hanno fatto un lavoro incredibile e straordinario anche perché ripeto gli elementi a loro disposizione erano veramente pochissimi e quindi coordinati poi ecco la dottoressa manuale della procura della Repubblica hanno fatto un lavoro incredibile.